Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e l'opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Ci è voluta tutta la notte per smaltire l'emozione della tappa 9 del Giro d'Italia. Una tappa interamente abruzzese, una tappa peninica, arrivo in salita, campo felice, sullo sterrato, la poesia del ciclismo. Io ho una sola cosa da dirvi ragazzi, guardatevi l'ultimo chilometro, una tappa straordinaria, un arrivo bellissimo sullo sterrato, una moto, un trattore Gianni Moscon che trascina con il suo lavoro Egan Bernal nell'impresa del giorno che lo porta in maglia rosa. Il Neos ha corso benissimo, la squadra più forte con il corridore in questo momento più forte, lo straordinario Egan Bernal che sfruttando il lavoro di Gianni Moscon è tornato sotto nell'ultima salita affrontata con più di due minuti di ritardo, ha recuperato mano a mano tutti gli uomini della fuga che anche oggi sembrava poter arrivare. L'immagine di copertina è il momento nel quale Egan Bernal che si è portato dietro uno straordinario Ciccone, supera i due fuggitivi ultimi rimasti, il francese Bouchard e Bouman che erano davanti a tutti, sembrano delle moto che superano delle macchine, piantati completamente i due fuggitivi che erano riduci anche da un gran lavoro nella fuga, Bernal è passato a una velocità straordinaria, Ciccone gli è rimasto dietro il più possibile, poi Egan l'ha staccato, è andato a vincere la tappa e a prendersi la maglia, anche se nell'intervista del pre-gara ci aveva detto che non gli interessava prendere la maglia prima del giorno di pausa invece ha la presa alla grande. Guardatevi l'ultimo chilometro perché è la poesia del ciclismo, è la ragione per cui questo è uno degli sport più belli del mondo da vedere. Vincitore di giornata, vincitore di tappa, vincitore di tutto, Egan Bernal sicuramente l'uomo del giorno, tra gli uomini che hanno fatto molto molto bene, Pouchard come detto il francese nella fuga, ha compiuto la sua missione, ha vinto tutti i gran premi della montagna e si è preso la maglia di miglior scalatore, prendendo la Gino Meder invece lo svizzero che non ha avuto una grande giornata nella tappa di ieri. Quindi buona prestazione di Bouchard, ottimo Egan, ottimo Ciccone che è riuscito a stare attaccato al colombiano e quindi ha guadagnato anche alcune posizioni in classifica, si è portato al quarto posto, classifica che è molto corta, i primi dieci sono in un minuto e due secondi, abbiamo anche tre italiani dei primi dieci, Ciccone, Caruso che ha corso molto bene anche ieri, Davide Formolo bravissimo, per cui Italia che in questo giro d'Italia si sta comportando comunque bene, ha vinto solo la prima tappa con Ganna, però tanti piazzamenti, tanti secondi posti, corridori protagonisti, Ciccone che per la classifica ci può dire ancora qualcosa. Ieri il perdente del giorno da un punto di vista forse dell'immagine è Remco, Remco e Venepoel che ha preso un po' la botta da parte di Egan quando Egan è staccato, è partito, però è stato bravissimo a non perdere troppo tempo e alla fine ce lo siamo ritrovati con un ritardo abbastanza ridotto. La bellezza di questo giro per ora abbiamo già avuto tante emozioni, abbiamo già avuto arrivi in salita, piove sempre, anche ieri guardatevi le immagini, tempo da lupi incredibile nell'arrivo in quota a campo gioioso, bisogna dire però i ritardi sono sempre molto molto contenuti, quindi nessuno può dire, forse Almeida è fuori completamente dalla classifica perché ha un ritardo ormai troppo ampio, per quanto sia correndo piuttosto bene il corridore portoghese potrà sicuramente dare una mano a Evenepo. L'Evenepoel quindi è partito male nella salita, è riuscito misteriosamente a ritornare sotto nel finale a contenere i danni. Mi è piaciuto molto Vlasova, anche ieri il corridore russo della Stana ha corso piuttosto bene, è riuscito a rimanere collegato col gruppo di Emiglior e non perdere troppo da Bernal. Forse il perdente di giornata, anche ieri possiamo dire che Simon Yates, Yates in questo giro però sta facendo un po' forse il contrario di quello che ci ha abituati a fare, invece di andare fortissimo nelle prime settimane e poi crollare nella terza settimana, stavolta invece sta un po' contenendo i danni nella prima settimana, vediamo se sarà capace di venire fuori nel finale. Vincenzo Nibali anche ieri ha perso qualcosa, però più o meno riesce a rimanere collegato col gruppo di Emiglior, ha un ritardo di più di due minuti, non penso che stia correndo per la classifica, però sta sicuramente mettendo a gamba per poterci regalare qualche emozione nel corso della terza settimana. Tappa bellissima, veramente, guardatevi anche solo un ultimo chilometro, il video dell'ultimo chilometro e veramente rimarrete emozionati e capirete perché stiamo parlando di una cosa così bella. Anche ieri, momento paura, in una discesa, Moric, lo sloveno della Tim Bahrain, una caduta tremenda, è caduto di punta, la bici si è spaccata in due pezzi, per Moric giramenti di testa, non è riuscito a ripartire, anche se gli avevano rimesso lì la bicicletta per ripartire subito, ma dopo una caduta come questa ha dovuto assolutamente fermarsi, però va andato poi un post in serata su Instagram nel quale ringrazia soprattutto il caschetto che in questo caso gli ha salvato la vita perché la caduta è stata veramente tremenda, anche in questo caso le immagini fanno veramente paura. Oggi tappa tranquilla sulla carta, si torna in pianura, si parte, si arriva a Foligno, per cui si parte dall'Abruzzo, si passa rapidamente dal Lazio, dalle parti di Rieti, a Rieti anzi, e poi si arriva verso Foligno, ritorniamo a strade larghe, ritorniamo ai problemi derotatori e restringimenti, nel finale c'è lo sprint, un paio di semicurve, restringimento, per cui vediamo, teoricamente è una tappa per gli sprint rimasti, ieri iniziò l'arrivato ultimo, speriamo che magari oggi in una tappa invece più per lui possa riuscire a ribaltare la classifica e vincere la tappa. Ne parleremo domani mattina, io vi aspetto più tardi in giornata per i playoff di Serie B. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, campanelline per essere avvisati dei prossimi contenuti, like per se vi piace ogni video. Un bacio, una buona giornata e a più tardi. Ciao ragazzi!